L'errore nel tatuaggio non è contemplato Cioè nel senso Sembra incredibile di unire Però nel tatuaggio non è contemplato l'errore Nel senso ci può essere l'imprecisione Ci può essere la confusione Non ci può essere l'errore Nel senso ci può essere l'errore Un corpo, lasciare un segno di drevi sul corpo Significa prendersi la responsabilità Di decidere se quella persona Guardandosi allo specchio Mi sorriderà o mi maledirà Questo è il motivo Questo è come io vivo un tatuaggio Logicamente come dice Padre Pio Chi lavora con le mani un operaio Chi lavora con le mani e la testa È un artigiano Chi lavora con le mani e la testa e il cuore È un artista Il tatuaggio continua ad essere quello che è sempre stato Quindi un gesto molto coraggioso Nei confronti della società Per l'affermazione di un qualcosa che si ha dentro Poi, che oggi sia molto più facile Affermare queste cose attraverso un tatuaggio Questo ne do altro Ma per il semplice fatto che Quest'arte è uscita dalla nicchia In cui è richiusa fino a 15, 16, 20 anni fa Grazie a tutti Grazie a tutti